A due giorni dalla festa del Santo a Padova sono già migliaia i pellegrini che stanno arrivando in città da tutta Italia e da tutto il mondo per celebrare Sant'Antonio anche in questi giorni di tredicina. Rimane per noi sempre molto sorprendente poter constatare come siano davvero decine di migliaia le persone che da tutto il mondo raggiungono la Basilica invocando e affidandosi a Sant'Antonio. Così come tantissime sono le persone che stanno anche partecipando ai diversi eventi che abbiamo cercato di organizzare in questo giugno antoniano. Oltre 30.000 i fedeli transitati nella Cappella delle Reliquie in questi giorni che procedono il 13 giugno che sarà una giornata dedicata come sempre alla preghiera con le messe solenni in Basilica e alla devozione con l'abbraccio della città al Santo più amato durante la processione. Quest'anno la riflessione che ha animato la tredicina è dedicata alla pace. Antonio ci ispira molto non solo perché ha parlato in favore della pace ma anche perché ha testimoniato proprio una vita in difesa dei poveri contro ogni forma di violenza.